oggi mercoledì 4 luglio 2018 bellissima giornata al lago benaco zona campagnola campi mazzurro bellissimi bagni nuotate acqua bellissima bellissima giornata di estate siamo sotto il pontile un'acqua limpidissima bella calda sullo sfondo dello scoglio laggiù in mezzo alle nuvole e riva de Garda sentono le cicale che cantano a dire che fa caldo e con queste immagini amici vi saluto ciao al lago benaco